A nord di Milano, lungo la direttrice che porta al lago di Como, sorge il sito San Cobain Abrasivi di Caronno Pertusella. Nel piccolo stabilimento operano 22 addetti, provenienti in larga parte dai comuni circostanti, che contribuiscono a creare uno stretto legame ed uno spirito di squadra unici nel loro genere. La collaborazione che caratterizza il team genera un ambiente di lavoro nel quale la fiducia e l'entusiasmo sono chiaramente percepibili e dove ogni dipendente ricopre un ruolo importante. Realtà industriale presente da quasi 50 anni, la fabbrica di Caronno è leader nella progettazione e nella produzione di pietre abrasive utilizzate nelle fasi di lappatura e superfinitura. Ciascun lavoratore al suo interno è un esperto conoscitore del mondo degli abrasivi ed il continuo miglioramento è parte del DNA della fabbrica. Ogni giorno il team lavora per ottenere la perfezione sia nel processo che nel prodotto che viene fabbricato a Caronno. Il segreto del successo di questa fabbrica sta nei continui investimenti in formazione e sviluppo dei dipendenti. Si tratta di una forza lavoro di primo livello che produce beni di pari eccellenza. È presente una chiara cultura a favore della salute e della sicurezza che ha portato a più di dieci anni senza infortuni o eventi ambientali. Questo traguardo dimostra il rispetto che tutti hanno per la sicurezza propria e dei colleghi. Caronno è una piccola squadra con un grande cuore e ogni membro è orgoglioso di dire i prodotti Norton non sono fatti da me.